Allora, il primo premio lo vorrei dare. Per esempio, molti nel cinema hanno bisogno degli animali. Ci sono gli ammaestratori degli animali. Allora, nel film di... Ots... Ots... Fernan... Otseper... Ots... Otseptecker... Otseptecker... Nel film di Fernan... Napoli Velata, c'erano degli animali, di scena, cose... E allora, premiamo... Premiamo gli ammaestratori, i fratelli Perla, sì, sono ammaestratori. Francesco e Giuseppe Perla, che sono qui con noi. Grazie, grazie. Andavano ringraziare, immagino. Volevi ringraziare? Prego. Prego. Volevi ringraziare, immagino. Dagli un premio, grazie, complimenti. Lo voglio scegliere. Ah, lo voglio anche scegliere, guarda. C'è anche le... Ecco, prenda questo. Va bene, grazie. Grazie mille, complimenti. Grazie, grazie, grazie. E allora... Andate, andate. Perfetto, andiamo un altro premio ancora. Andiamo un altro premio, da dare, ecco. Ah, ce n'avevo una musica. Ah, ce n'avevo una musica. Sono... E qui. E le mani, sta musica. Ah, per favore. Allora, un altro premio come migliori ballerini. Qual è? Migliori ballerini. C'è anche Luca Tomasini, l'ha già adocchiati, eh, Luca. Prendi, posto di questo. Grazie. Puoi anche l'altro? Prego, prego. Vi andate via, per favore. Vatta, basta. Adesso... Scusate. Io ho un altro. Vorrei prendere.